Nelle concessionarie italiane arriverà solo tra qualche mese, ma la nostra redazione ha già potuto sedersi al volante della innovativa Ampera, la vettura che per la casa di origine tedesca Opel segna l'inizio di una nuova era. Futuristica nelle linee della carrozzeria, così come nel design interno, Ampera sfrutta tutta l'efficacia di un motore elettrico alimentato da batteria agli ioni di litio, abbinato al propulsore a benzina 1.4 Voltec. I vantaggi ve li spieghiamo con il primo servizio di questa puntata. EREV. Così è stata ribattezzata vettura di casa Opel, che apre un nuovo capitolo nella storia dell'automobile. Una sigla che è tradotta in italiano significa veicolo elettrico con autonomia estesa, in due parole Opel Ampera. Una grande novità che arriverà nelle nostre concessionarie a partire dal primo trimestre del 2012. Si tratta di una vettura completamente innovativa a partire dal design, con linee pronunciate e scolpite nella lamiera, che rimandano direttamente al futuro. Ma è solo quando si entra nell'abitacolo che il futuro è veramente nelle nostre mani. Svetta dietro al volante un display che sostituisce gli strumenti tradizionali e ci informa di velocità, stato di carica e modalità di guida. Attraverso una pallina che rotola sullo schermo, viene segnalato se il nostro stile di guida è corretto o se stiamo consumando decisamente troppo. Anche la console centrale è un elemento di design funzionale che stupisce chiunque salga all'interno dell'abitacolo. Opel Ampera propone quattro comodi posti. Sotto il tunnel centrale è stato ricavato lo spazio per introdurre un pacco di 288 batterie agli ioni di litio, che pesano 198 kg. Noi sappiamo che mediamente a livello europeo gli automobilisti viaggiano non più di 50 km al giorno. E Ampera questi 50 km li soddisfa in puro elettrico, avendo un'autonomia che supera i 60-70 km con le batterie. Per ovviare al problema che poi si incontrerebbe dopo questo tratto di 70-80 km, Ampera ha un motore termico a benzina che funge da generatore e manda elettricità al motore elettrico. Il motore elettrico è sempre quello che dà trazione, quindi la vettura viaggia sempre con il motore elettrico. E le prestazioni sono invariate sia utilizzando solamente le batterie che utilizzando anche il motore generatore. Opel Ampera sarà proposta con un prezzo base di 42.900 euro. Quattro le modalità di guida disponibili. Normal, Sport, che aumenta la sensibilità dell'acceleratore a discapito del consumo di energia. Mountain, che consente un risparmio di energia per affrontare i tornanti più imperbi delle strade alpine. E Old Charge, che conserva l'energia delle batterie attivando il motore a benzina. A presto!